Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Questo weekend vi portiamo in Valle Argentera. Valle Argentera è una valle secondaria della Val di Susa, si sviluppa nel comune di Sause di Cesana e si trova a circa 1800 metri di altezza sul livello del mare. E' il luogo ideale per scappare dal caldo della città, qui si può campeggiare liberamente. Questa è Valle Argentera, noi siamo parcheggiati lì. Grazie a tutti. Ecco come si apre la tenda della nostra doccia esterna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.